Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della strade bianche e andiamo a vedere assieme i corridori che potete schierare nelle vostre fantasquadre. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato e non perdervi questi tipi di contenuto. E andiamo subito col vedere i favoriti di questa classe perché finalmente si inizia col periodo delle classiche e si parte con la strade bianche. Strade bianche che non è una corsa antichissima come la Paris-Giroubaix, la Milano-Sanremo, è stata fondata nel 2007 e è sempre stata una gara che ha dato spettacolo di fatte molto amata da tutti i ciclisti. È da qualche anno che è entrata nel panorama World Tour, prima non aveva questa licenza, ma era comunque una gara che l'affrontavano tutti i grandi ciclisti. Non a caso l'ha vinta tre volte Fabian Cancellara. E per quest'anno chi saranno i favoriti? Io andrei subito con l'elencare il quattro volte campione del mondo di ciclocross, Mathieu van der Poel. Non l'ha mai corsa, ma il percorso sembra proprio disegnato per lui. Difatti ci sono 63 km di strada bianca che lo avvantaggeranno. L'arrivo a Piazza del Campo a Siena è molto duro, è circa un chilometro con pezzi che arrivano fino al 15% di pendenza. E uno come lui me lo vedo molto molto bene, sia nelle strade bianche che nell'arrivo disegnato per persone esplosive come lui. Se vi ricordate molto bene, in cima allo strappo ci sono quelle due curve in una strada molto stretta che di solito chi le prende in testa ha vinto la gara. E il mio favorito numero uno è Mathieu van der Poel. Lo possiamo mettere a pari armi. L'ha già vinta l'anno scorso, ha vinto pure la Sanremo e direi Wut van Aert. Anche lui tre volte campione del mondo di ciclocross, quindi nelle strade bianche è avvantaggiato come van der Poel. Anche lui è un corridore molto esplosivo e ha armi pari a van der Poel, direi Wut van Aert. Il terzo favorito che vi dico è molto scontato, è il campione del mondo, se la battaglia assieme a loro due. Un ricordo di una gara molto simile al Giro delle Fianne dell'anno scorso dove loro tre sono rimasti da soli assieme. E' Julian Alaphilippe. Un corridore che vi avevo già annunciato nelle sorprese di quest'anno, che spero che questo video ve lo siete andati a vedere, così da migliorare le vostre squadre a budget bassissimo. Si è già fatto vedere in questo inizio di stagione. Alla Kurn Bruxelles, Kurn è arrivato terzo. Alla Omlothet Newsblatt era davanti col gruppo dei migliori e sto parlando di Tom Pitcock. Per la Ines Granadier assieme a lui ci sarà anche Egan Bernal. Non ve lo dico tra i favoriti, ma occhio perché anche lui potrebbe essere uno dei corridori che troveremo là davanti. Altro corridore che quest'anno ha già fatto vedere grandi cose, vincitore dell'UE Tour, anno scorso vincitore del Tour de France. Corridore che lui è molto esplosivo, quest'anno la prima tappa dell'UE Tour era davanti. Si è giocato addirittura la volata con Van Der Poel, è arrivato quinto. Ha vinto già l'UE Tour e una tappa e sto parlando di Taddei Pogacar. Attenzione anche allo sloveno. Assieme a lui ci sarà un buon Davide Formula che l'anno scorso è arrivato terzo. Quindi squadra UE e Team Emirates, anche loro da tenere sott'occhio. E andiamo col vedere Bauke Mollema, vincitore fresco del trofeo La Gueglia. Assieme a lui ci sarà Gianluca Brambilla, vincitore del Tour du Var. E vediamo come se la giocherà la track sega freddo, ma Bauke Mollema potrebbe essere uno dei favoriti. Andiamo col vedere Jakob Fulsang. Anche lui in questi anni ha dato spettacolo in questi tipi di corse, ha vinto la Liegi Bastogliegi nel 2019. Potrebbe essere disegnata anche per lui questa gara, quindi stiamo molto attenti a lui. Corridore italiano che anche lui l'anno scorso ha fatto vedere grandi cose in questa gara. E sto parlando di Alberto Bettiol. Speriamo che dopo il fiando, chissà, potrebbe vincere le strade bianche. Speriamo. E l'ultimo corridore che vi elencherei è Michael Woods. Passato quest'anno la Israele Startup Nation, già vittorioso di una gara quest'anno al Tour du Var. Si è fatto togliere la maglia di leader da Gianluca Brambilla. Corridore molto esplosivo. E chissà se arriverà là davanti nell'ultimo strappo. È uno dei corridori che secondo me potrebbe dire la sua. E questi sono i miei favoriti. Nel mentre vi faccio vedere anche la mia squadra. Perché ho fatto abbastanza fatica a selezionare questi nove corridori. Siccome avevo una bella squadra da schierare. E vedremo come andrà la mia squadra. Quindi state attenti, scorrete la classifica e vediamo dove mi troverò. E spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.